Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Achilles Legend Untold, la storia di Achilles insomma visto su uno stile un po' Dark Souls-like insomma, come dire. Il gioco è Inerly Access, è uscito il 12 di maggio e costa 19 euro, circa 18-19 euro. Inerly Access perché uscirà nel giro di un anno, al momento ha il prologo e il capitolo 1, avrà cinque capitoli e la co-op che attualmente da due giocatori diventerà da quattro. Il gioco finale avrà due finali determinati dalle scelte del giocatore ma, come sempre, lo andiamo a giocare in italiano ed è una cosa lodevole calcolando che è Inerly Access. e questa cura mi commuove nei nostri confronti. C'è un posto per tutti, almeno così dicono. Le anime private dei propri resti vagano sul mondo dei mortali. Perse e abbandonate portano sangue, morte e fuoco. L'insanabile ciclo della guerra prosegue, un ciclo di pura ragionevolezza, di vita e di morte. Di morte e di morte. Una danza sul ciglio della dissoluzione. Sembra tradotto anche abbastanza bene. Mendicante re dio. O eroe. Tocca a tutti. Prima o poi. Ora dimmi. Dove e quando ti coglierà. Mica male la intro, eh? Che poi mi viene da dire. Parliamo di, in questo caso, di Iliade. e in caso di Assassin's Creed, parliamo anche di Odissea. Parlando di Assassin's Creed Vikings e Vikings e Valhalla, insomma, si parla di vichinghi. Con Crusader Kings si parla di storia, tutto, mi direvo, insomma. Mannaggia, li avessi avuti io quando facevo scuola questi giochi. Comunque ci si muove con WSD, analizziamolo un po' dal punto di vista tecnico. Perché tante volte lo si vede giocare, ma non... Graficamente sembra piuttosto carino. Attendiamo il tutorial. Siamo sbarcati non so dove. Eh, voglio dire, se avessi giocato l'Iliade su un videogioco ai tempi in cui la studiavo, ne avrei magari appreso con più entusiasmo le vicende, insomma. Impugna la spada e colpisce Achille. Ricorda che, anche se lento, un attacco potente è sempre devastante. L'attacco rapido e l'attacco potente con il tasto destro. Sì, è un po'... Il mouse non serve a nulla se non ha da attaccare. Col tasto spazio facciamo questo scattino. Col tasto centrale del mouse agganciamo il bersaglio. Finto la stamina. È questa la natura, souls-like. L'ho targhetta in automatico che è comodissima come cosa. Ok, gli ho dato due colpi, è stato devastante. Ho subito un po', ma ce l'ho fatta. Poi parliamo anche di Rome Total War, insomma, tutte queste cose comunque... Ai tempi, se volevi, non so, guardare gli egizi invece che Assassin's Creed Odyssey, avevi Pharaon, però non era propriamente la stessa cosa, insomma. Ah, devo targhettarlo, però se no è difficile. Molto bene, andiamo avanti. Ho ricaricato la stamina. Ho buttato via... Metà me ne fa fuori. Ah, già continua a mancarlo, eh. Ma è bella, bella riflessiva la cosa dei duelli, perché comunque non è il picchia picchia da Kenslash, ma un minimo di tatti che ci vuole. E qui? Non si può fare niente, eh. Andiamo avanti. Ah, guarda giù, perché probabilmente devo andare di qua. Sì. Sì, per quello guardava... Che tra l'altro, adesso, Achille dovrebbe essere immortale. Perché? Perché fu immerso, adesso non ricordo la vicenda esatta, ma in queste acque sacre e divenne invulnerabile, eccetto in un punto, il punto dove era stato afferrato il tallone per essere immerso in quest'acqua. Quindi, questo è il racconto molto in sintesi. Poi, vabbè, salvo spoiler, comunque lo colpiscono proprio lì. Allora, ho fatto il giro, sono tornato qua. Cioè, sono veramente scarsino io come orientamento. Col tasto tab vediamo le armi, molto all'Assassin's Creed questo. Lo scudo di tetti, abbiamo la storia. Uniscite i due armi di perso le mura di Toria. Ok. Niente, siamo tornati indietro. Mi sa. Come il vago dubbio. Vabbè, andiamo avanti. Graficamente, no, è un po' questo effetto seppia qui. Non è una grafica da urlo, insomma. Però anche la sabbia così fatta bene. Può valere i soldi spesi. Qui io sono davvero combattuto perché, secondo me, bisogna essere davvero appassionati del genere e aver voglia di qualcosa che abbia a che fare con la storia. Solleva il tuo scudo e proteggiti dagli attacchi. Ricorda che paranea riduce la velocità di rigenerazione. Ok. E control. Vediamo se è comodo usare il control. Allora, non è comodissimo orientarsi senza usare il mouse, però è comodo nel momento in cui targettiamo il nemico. Quindi è un gioco che è basato su questa cosa. Cioè non si può pensare di combattere se non usando un pad senza il lock. La vita si rigenera ogni volta, vedo, così come anche la stamina. Quella linea blu sotto non so cosa sia, però. Mica male. Esegui una schiavata per evitare rapidamente l'attacco di un nemico. Arrotolo per allontanarti. Schiavata durante una schiavata. Ah, ok. Quindi praticamente io arrotolo. Ok. Premo due volte in sintesi. Prima fa la corsetta. C'è un non so che di tipo calo di framerate ogni tanto. Non ho idea se effettivamente si è dovrei verificare. Se non lo sto giocando per accidentalmente in 4k. Contro i due nemici è già un po' più tosta, però ci targetta in automatico l'altro. Dovremmo shiftare da uno all'altro usando sempre la rotella. Adesso prendiamo bene la mira. OLEE Fatemi controllare un secondo se effettivamente... No, lo stiamo giocando tutto a IPK ma in full HD. Giusto. Allora, proprio una mancata ottimizzazione. Dobbiamo andare verso la città, quindi credo sia da questa parte. No. Sì. Durante la missione troverai sbagliati luoghi e oggetti di cui potrai servirti. per portare gloria al tuo nome. Apri le porte, le casse, i tuoi... Sì, ci sono anche missioni secondarie, poi. In qualsiasi momento puoi controllare la strada più breve per la missione. Ah, ok, con la G mi dà il percorso. Ok, ok. Sì, non è un gioco dove si vaga liberamente, non è un open world. Però il combattimento per me non è male. Poi, io ho sentito anche gente che diceva l'opposto. Io vi do la mia. La mia opinione è ovvio. Probabilmente non renderà bene con più giocatori, più, scusate, più avversari. Però, Ettore, che dovrebbe essere il fratello, Ettore. Ah, no, 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 che pal... No, non è vero, è da tutt'altra parte questo Ettore. Lo confondo con l'altro. È il fratello dell'amante di Elena, lui. Questo Ettore. Che poveretto, io ho sempre simpatizzato per lui, ma... No, gli Archeri no! Che poi questo fu un duello veramente fatto nella storia tra loro due. E' diventata una bella botta adesso, eh. Vediamo come pariamo i colpi di Ettore. Mmm, con la linea volta. Però la vita torna su. Potrebbe starci. Il fratello delle tue mani. Uccidi? No, no, l'ho uccito. Eh, l'ho uccito comunque. Non ho scelta adesso. Lo devo uccidere. Che poi dietro c'è una storia di vendetta comunque. Quindi? Si va? Il protone è chiuso. G? Ah, si va di là. Ok. Comodo perché ci sarà un'entrata secondaria. E si è entrata qui. Che brutta sta cosa. Che vedete che qua aveva un pochino così di traverso. Non è molto ottimizzata sta cosa adesso. Del movimento. Con solo WP-ASD. Quindi per me resta comunque da pad. distante. Allora. Letta tutto. Sì. Sì. cioè non è fatto male c'è anche tutte queste animazioni qui cioè non è male scatto ok il problema arriva nel momento in cui dobbiamo correre in diagonale con la tastiera che non è proprio linearissima come cosa però vabbè ma adesso questo qui com'è lo come devo fare il giro non c'è il salto quindi devo devo proprio non è neanche così difficile cioè non mi dispiace fino a un certo punto poi sarà da vedere un pochino come come proseguirà il gioco vediamo adesso come si se la cava con il combattimento con moltiplici avversari perché posso shiftarsi da uno all'altro non è comodissimo c'è una vera che mostra ha fatto sto qua ma io voglio finire quello però perché ho finito anche la stamina un andato facciamo fuori l'acere che tecnicamente dovrebbe essere un po ok rimane l'ultimo ma è un po come giocare a scacchi nel senso che bisogna un attimo andare di tattica comunque usare bene l'ambiente non male un po macchinoso ecco l'unica cosa bello comunque la cera che è saltato fuori in salto scoccando la freccia interessante ok beh vedete che qui mi resta vincolato così è come quasi fosse rimasto ancorato a al al corpo del nemico va bene salvo sarebbe stato bello in caso di diciamo un nemico preso alle spalle di di poter ucciderlo con un colpo cosa che ho fatto prima mi sono dato le spalle ma non ma l'ha colpito normalmente avrebbe dato più senso ancora alla tattica ok bisogna fare giro di qua ok andiamo avanti di sotto c'è qualcuno ma non ce ne freghiamo e andiamo avanti potrà cadere di sotto non credo no infatti non si cade però ecco è giusto per analizzarlo bene il gioco allora no stamina non è tanta vediamo come parliamo una lancia con lo scudo carica proprio lentissimo l'aveva detto il tutorial perfetto premiamo la g per vedere dove andare ho due arcieri capitolo guardano ritrova il tempio un andato molto bene poi chiaramente non è un capolavoro chiaramente per appassionati del genere magari di questa storia di questo racconto questo poema diciamo che è lodevole il fatto che ci lamentiamo sempre che il gioco i giochi non sono mai in italiano pretendiamo a volte di averli in italiano anche durante le access qui siamo stati accontentati poi magari nonostante questo ci permettiamo anche di fare i difficili direano si può salvare quindi sta solo a scaffare però ok paride eccolo qua il fratello di ettore ma andiamo già così alla fine del sì ma ma da quanto i coadi che sono passati più di vent'anni ma io qui ci dovrei lasciare la pelle paride amante di elena sì infatti l'ho ucciso tuo fratello voglio capire come va a finire sta vicenda perché sta attaccando con non so se ha magia o cosa ma è scatenatissimo questo mamma mia che nervosa non si può ruotare la visione faccio 82 e 118 con l'attacco potente cavoli mi sta me ne sta suonando e tra l'altro non mi si rigenera manco la vita sì però qui io devo morire cioè non la storia lo impone per una freccia guidata da dagli dei insomma adesso non si infatti immaginavo ah 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 andiamo a cambiare la storia ti do il benvenuto nel più profondo degli abissi achille benvenuti nel tartaro l'immortale l'ho piatto anche bene eh lui mi offre di riportarmi nel mondo dei mortali e devo fare degli incarichi per lui portami quello trovo quell'altro qualche accesone qua e là ci sta dicendo se stai qui non sentirei nulla non vedrai nessuno ci sta dicendo se stai qui non sentirei nulla non vedrai nessuno penso che c'è qui non sentirei nulla non vedrai nessuno penso che c'è te tutto è meglio di Tartarus bene detto pachinesi allora non puoi perdere nessuno più tempo sono già morto non puoi essere più peggio di questo ok e quindi siamo tornati per sconvolgere la storia stravolgere più che sconvolgere ah questo è Ade giustamente non l'avevo visto perché c'è Efesto dobbiamo andare alla forgia di Efesto sono il sovrano dell'ultrevondo gli sprovveduti venerano i miei fratelli e le mie sorelle la ricerca di riccheze sfuggevoli e le firme della bellezza eppure tendono a dimenticarsi che sono sempre io da tenerli al termine del loro cammino si questa è la divinità dell'aldilà vai esaudisci le mie richieste Achille non te ne pentirai va bene non credo ci sia neanche modo di però di mettersi all'opera chissà forse ok qua poi andremo vabbè a cambiare anche le armi ok andiamo a dare un'occhiata cintura degli oggetti utilizzo le porzioni curative a recuperare l'autosalute oggetto 1 infatti adesso non siamo più immortali io immagino quindi adesso appena ce la facciamo riposandoti all'altare potrai recuperare forza a liveare qualsiasi malessere la tua cintura verrà rifornita di oggetti a condizione che tu ok vabbè dobbiamo liberare la zona qui e adesso è diventato praticamente un souls qua si prende roba pozione curativa scusi goccia del sangue di Ares credo adesso si adesso voglio dare un'occhiata solo a una cosa abbiamo le abilità mmm sono abbastanza abilità si possono andare a sbloccare diamo un'occhiata giusto per il menu qua e patinette skyrim allora maggiore esigenza maggiore vigore poter raccogliere le anime dei caduti nel nome di Caronte una benedizione e qua praticamente ci fa non so cosa sia però sono tante le abilità è fortuna gli oggetti che possediamo goccia del sangue tutte le varie cose la storia con l'equipaggiamento abbiamo lo scudo scartato sì sì siamo praticamente ripartiti da capo mentre l'altare è questo albero delle abilità possiamo spendere un punto energia furia ma possiamo zoomare ok più forza più danno infliggerai fatto insufficiente eh sì è la stessa cosa delle anime delle rune insomma non siamo dati molto diversi abbiamo un'abilità qui che non si può usare riposati perfetto i nemici sono tornati in vita ecco questa meccanica qui perché bisogna sempre farla identica uguale io non lo so comunque abbiamo la missione che ci porta di là il gioco ora si è aperto diventando souls a tutti gli effetti quindi voglio recuperare questo la radice di balis e non si riesce più tornare su adesso no sì in qualche modo si torna su un sacco di nemici bene bene e i nemici poi tornano in vita ogni volta che noi riposiamo a uno dei santuari chiamiamoli santuari ragazzi il gioco sembra senz'altro interessante lo reputo un gioco per appassionati appassionati dei generi magari souls like in isometrica terza persona insomma così e per gli amanti di storia delle vicende di Achille il gioco resterà comunque nelle access un po' ma già in italiano e ve lo potete godere a pieno il prezzo 19 euro 18,99 insomma che potrebbe comunque aumentare secondo me il giorno del rilascio potrebbe costare sul 30 potreste valutarlo in ottica di investimento se il tipo di gioco vi piace non è sicuramente un gioco per tutti ma non è sicuramente un gioco brutto baggato insomma e ha anche una certa cura lo si è visto nelle cutscene quindi se vi va di immergervi in questo mondo classico di dei divinità che si fanno dispetti di eroi e di storia del viviade beh il gioco è questo Achilles Legend Untold fatemi sapere che cosa ne pensate questo sotto nei commenti noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao Grazie a tutti